Adesso la testa è rivolta soltanto ai play-off. La Serie C si prepara ad un luglio di fuoco e lo farà passando dalle prossime settimane. Bari, Monopoli e Virtus Francavilla tornano al lavoro in vista degli spareggi per la Serie B. Le tre pugliesi saranno in corsa per decretare la quarta squadra promossa in cadetteria. Lo step che anticiperà i play-off sarà la finale di Coppa Italia di categoria, con Ternana e Juventus Under-23, che si giocheranno il trofeo e l'ultimo slot per i quarti di finale. La prima pugliesi a scendere in campo sarà la Virtus Francavilla, che mercoledì 1 luglio affronterà il Catania per il primo turno dei play-off del Gironi C. In caso di vittoria, i biancocelesti tornerebbero in campo domenica 5 per la seconda fase. Toccherà poi al Monopoli, che entrerà in gioco dagli ottavi di finale da terza del Gironi C e con il vantaggio di disputare la gara secca al Veneziani. Biancoverdi in campo giovedì 9 luglio contro una delle squadre provenienti dai turni precedenti. Massimo vantaggio invece per il Bari, in campo a partire dai quarti di finale. I biancorossi giocherebbero tutte le sfide al San Nicola, eccezione fatta per un ipotetico scontro con il Reggio Audace. Gli emiliani vantano il titolo di miglior seconda della Serie C in base all'algoritmo e sono gli unici ad avere la certezza di giocare tra le muramiche tutte le partite dei play-off. Bari dunque in campo da lunedì 13 luglio. In caso di vittoria sarà subito accesso alle Final Four, che non si giocheranno in sede unica, bensì con il fattore campo. Semifinali in programma venerdì 17 luglio, finale per la Serie B prevista per mercoledì 22. In campo però ci andrà anche il Biceglie per i play-out. Spareggi per la permanenza in formula andata e ritorno. 27 giugno in programma il primo round al Ventura, ma la salvezza si deciderà sul campo della Sicula Leonzio il 30 giugno. Anche i nerazzurro astellati vivranno un'estate caldissima.